E' stata la tre giorni di convegne, rassegne espositive di scena Umbria Fiere nell'ultimo weekend, fa la cosa giusta ad ospitare uno dei numerosi panel, il dibattito sul tema di grande attualità legato all'economia circolare. Una sfida planetaria su cui si gioca il futuro dei delicati equilibri di gestione delle risorse naturali, dell'energia, della limitazione degli sprechi, della tutela ambientale e della garanzia di un futuro sostenibile. Una partita che si gioca anche in Umbria, come dimostrano le varie buone pratiche esposte nel corso di uno dei confronti, promossi in sede di rassegna dalle associazioni consumatori ADIC e Feder Consumatori, con il titolo Chiudiamo il cerchio, teoria e pratiche di economia circolare, come gestire le materie prime e in particolare come fare anche del prodotto rifiuto un elemento che abbia una continuità di vita e possibilmente anche una potenzialità energetica a portare le proprie esperienze pubbliche e amministrazioni, imprese private, associazioni e mondo giovanile. L'economia circolare non sia soltanto l'economia del futuro, ma è l'economia del presente. Pensiamo che nel nostro piccolo, noi pensiamo globalmente ma agiamo localmente, nel nostro piccolo come associazione dei consumatori tentiamo di cimentarci su un progetto che la regione Umbria ci ha sollecitato anche ad attivare, pensando che soprattutto le nuove generazioni debbano capire, essere informati, acquisire una nuova cultura del consumo, cioè partire dal momento in cui si acquista, pensare che quel bene può essere riciclato, rimesso in circolazione o in termini della biosfera, nella biosfera oppure in termini tecnici, perché ormai oggi la tecnologia tenta di, anzi ci riesce spesso, di reinserire nel ciclo produttivo beni consumati. Pensiamo che ormai l'economia lineare, che è un'economia energivora, come dirò poi nell'introduzione, abbia non soltanto fatto il suo tempo, ma credo che sia giunto il momento di dare questa sollecitazione, questa idea, questa forza nuova con l'economia circolare. Noi nel nostro piccolo siamo un comune che ha iniziato questa politica del plastic free, molto sentita dalla popolazione, molto sentita dalle scuole, dai ragazzi, quindi vogliamo sensibilizzare le persone a capire che tra l'altro noi viviamo in un lago, siamo vicinissimi al lago, siamo dentro il lago, il lago muore di plastica, il lago muore di inquinamento, quindi noi dobbiamo proteggere il bene che abbiamo, proteggerlo il più possibile, le buone pratiche sono quelle che salveranno il nostro futuro. Infatti Castiglione del Lago sarà come Comune, il primo comune dove dedicheremo una piazza, dove dedicheremo un luogo con una scultura fatta di bottiglie di plastica riciclate tramite anche le scuole, con la collaborazione per le scuole, proprio per sensibilizzare che il problema del futuro passa dal fatto del riuso, si parte dal concetto che chi produce dovrebbe pensare alla vita del prodotto e non considerare che un prodotto una volta che è morto viene scartato, perché scarta 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 alla fine non sappiamo più dove mettere rifiuti, quindi il nostro futuro dipende dai nostri comportamenti ma soprattutto dalla possibilità che questi, che i nostri oggetti della vita quotidiana abbiano una nuova vita e un nuovo riuso. Qui si parla di economia circolare stamattina è una parola che sentiamo sempre più spesso per fortuna, però oltre a parlarne dobbiamo anzitutto pensare a come praticarle queste cose. L'economia circolare è banalmente fare raccolta differenziata bene, ma poi anche essere molto attenti a tutte le filiere del recupero, del riciclo, del riuso, tutte le attività che sono tantissime che si collegano, si innestano sul tema dell'economia circolare. Questa fiera ne rappresenta una bella parte, un bel pezzo di tante aziende, tanti soggetti, tante associazioni, cittadini che sono impegnati su questo tema e che quindi cercano di mettere in pratica queste parole sull'economia circolare, la sostenibilità eccetera. L'industria cartaria italiana si occupa del riciclo della carta come fonte importante per la riduzione dei rifiuti. Noi utilizziamo il 100% di carta da macero proveniente proprio dalla raccolta differenziata cittadina. Oggi siamo qui per raccontare come Cartiera di Trevi è un perfetto esempio di economia circolare come unica cartiera dell'Umbria e presentiamo anche un prodotto, questo è un prodotto realizzato con i rifiuti dei cittadini dalla carta per la carta perché vogliamo continuare a diffondere questa idea che è per noi un crimine continuare a mettere i rifiuti di carta all'interno nei sacchetti della plastica. Per quello che riguarda noi siamo il paradigma di questa affermazione, noi siamo un impianto di biodigestione e compostaggio, pertanto noi acquisiamo dalla raccolta differenziata delle città il rifiuto organico e lo reimmettiamo nel circuito produttivo sotto forma di metano che viene reimmesso in rete e sotto forma di compost che è ammendante compostato misto ed è una forma di concime per l'agricoltura industriale. Ci si confronta quando si parla di impiantistica da questo punto di vista anche spesso con reazioni da parte delle comunità locali che magari non approfondite sul piano scientifico seguono come dire andamenti umorali, da questo punto di vista in Umbria come stiamo messi? Ma non benissimo, non benissimo, di fatto gli impianti sono autorizzati ed realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili al momento, al momento a livello mondiale, pertanto sono delle situazioni assolutamente conformi alle normative e ai regolamenti, nel caso di specie, e io parlo per Asia quindi per il biodigestore di Casone, siamo oltre che molto belli, esteticamente molto belli, anche molto ben funzionanti, il nostro vicinato che aveva una storia di disagi per odori precedenti, ad oggi risulta essere assolutamente soddisfatto dell'esito, soprattutto se paragonato alle quantità che noi trattiamo, per cui siamo assolutamente conformi e credo che siamo un esempio positivo di economia circolare sul territorio. Un passo in più rispetto a quello che stiamo facendo, sicuramente in questi mesi c'è stato il merito da parte di noi studenti di creare una grande sensibilità, abbiamo sensibilizzato le persone e noi stessi in prima persona ci sentiamo pronti a dover affrontare questo problema per il quale non c'è più tempo per aspettare. L'economia circolare è quel passo in più che facciamo per dire ok, è così che però dobbiamo affrontare il problema. Una volta essersi accorti che c'è questo problema, economia circolare vuol dire provare ad affrontarlo e banalmente vuol dire partire, certamente da noi consumatori, essere attenti al riciclaggio, essere attenti a non sprecare, a evitare che ci siano troppi rifiuti, ma anche fare una pressione affinché vengano costruite mezzi per poter riciclare nel miglior modo possibile, creare strutture stesse che abbiano un design che permetta poi il riciclaggio. Bisogna iniziare ad entrare in un'ottica diversa, per troppo tempo siamo stati nell'ottica dell'economia lineare, prendo le materie, costruisco l'oggetto, e poi l'oggetto, lo lascio perdere. No, noi dobbiamo ridare valore all'oggetto che abbiamo, lo dobbiamo rimettere in circolo e non dobbiamo pensare che questo sia utopico. Ci sono tante piattaforme condivise, penso al car sharing, all'utilizzo delle macchine per più persone che sono vere realtà, che già adesso ci possono fare sentire che cos'è l'economia circolare. Per esempio un capitolo delicato è quello della plastica, perché plastic free ovviamente si parla molto della necessità di pensare a qualcosa di diverso, quantomeno a un circuito differente. Ecco, Legambiente che cosa pensa e l'Umbria come è messa su questo profilo? Noi qualche giorno fa abbiamo presentato al nostro Ecoforum i dati sull'indice di riciclo, cioè quanto ricicla l'Umbria e abbiamo visto insieme ad Arpa Umbria che dove siamo più deboli è proprio sulla raccolta e sul riciclo della plastica, ma non è solo l'Umbria essere deboli su questo punto, è un po' tutta l'Italia, tutta l'Europa, abbiamo la necessità di creare aziende che recuperano e che riciclano la plastica perché è fondamentale metterle in questa filiera di recupero. D'altra parte poi occorre eliminare il più possibile, fino a eliminarli totalmente, tutte le plastiche monouso, quelle usa e getta. Per fortuna c'è anche una direttiva europea che ci indica la via, si tratta anche di anticipare, di seguire questo percorso e di potenziarlo perché tutto è risolvibile da un punto di vista tecnico, però occorre mettere in campo misure e soluzioni che consentano di eliminare il più possibile la plastica monouso e di riciclare l'altro tipo di plastica. Capitolo Costi, per chiudere, la carta può sostituire la plastica anche su un piano di convenienza per le aziende? Sono piani differenti, ci sono alcuni ambiti, però bisogna capire bene, lo dicevamo con l'Egambiente, da che parte si vuole stare. Si vuole fare qualche cosa per l'ambiente? Bene, ad esempio questo costa di più del sacchetto di plastica, però bisogna stabilire bene dove si vuole andare. Noi facciamo tante attività con le scuole, con i ragazzi, devo dire che oltre ad essere molto divertente è anche una grande soddisfazione perché vedi da parte loro una grande attenzione e una grande capacità di recepire, come dicevi tu, le informazioni che vengono date. Bisogna dare il buon esempio perché loro guardano anche quello, non solo quello che diciamo quando siamo lì a lezione, ma anche quello che facciamo durante tutto il resto della giornata e in tutte le altre occasioni. Quindi dobbiamo dare il buon esempio a loro, dobbiamo parlare con loro e dobbiamo provare a dargli delle informazioni e poi lasciare che anche la loro creatività si metta nel lavoro.